Siamo sempre a Ostia Ponente, verso Lido Scalo, e questo è il mercato pubblico, il mercato originario. Come potete vedere i muri esterni sono per quanto degradati, sono oggetto spesso di questo tipo di affissione abusive. Adesso anche qui questa squadra di ragazzi sta tentando di dare un altro look a questo mercato. Vediamo di che si tratta. Perchè fate questo? Ciao, sono Diamond. Il gruppo? Questo è un gruppo. Perchè fate questo bel lavoro? Lo faccio da quando sono nato. Bene, la piacete, la fai da quando sei nato. Faccio pensare di fare tutto il mercato? Bello, una bella idea. Questo è l'altro lato sempre del mercato, dove sono ancora in corso i lavori. I ragazzi ritengono che sia questo un modo di riqualificare Ostia Ponente. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti